Siamo con Gerlando e Gioacchino, tra l'altro facciamo subito gli auguri a Gioacchino per il suo compleanno, ragazzi. Gli auguri a Nini! Oggi vittoria di misura, raccontateci un po' questa partita. Prego. Partiamo da festeggiato. È stata una bella partita, rispetto agli altri, diciamo, che abbiamo migliorato nel gioco. Non chiedevo suonare. E niente, quindi abbiamo segnato abbastanza. Grazie ai ragazzi, comunque, si sono resi disponibili anche per la partita di oggi. Andando ad analizzare il parziale, una vittoria con così tanti gol di scarto, può essere un'arma a doppio taglio? Cioè, dopo un po' la tensione cala, dato il vantaggio, almeno in campo? Beh, sì, in realtà avevamo voglia di riscattarci rispetto all'ultima, perché ne avevamo presi tante anche alla fine. Quindi, diciamo, volevamo continuare fino all'ultimo minuto, però andavamo a fare più quel possibile. D'altro lato, sì, cala un po' la concentrazione, però oggi siamo stati concentrati. Poi c'è stato l'esordio del Messi di Terlizzi, che ci ha aiutato molto, diciamo, nel costruire il gioco. Grazie ragazzi. Grazie a te. Grazie a te.